Al via oggi la tre giorni del vertice Nato, a Washington la Premier Meloni, passaggio di testimone tra Stoltenberg e Ruth e sul tavolo crisi belliche ed equilibri geopolitici. Banca Italia, il governatore Panetta, sistema solido ma non eccediamo in ottimismo, calano i prestiti al settore privato, meno 1,1% per le famiglie e meno 3,1% per le imprese. Politica, domani Alisa, la Camera in Commissione Trasporti, all'ordine del giorno del decreto legislativo sullo scambio delle quote di gas serra nell'ambito della direttiva ETS. Arera, relazione annuale, consumi e produzione di energia elettrica in calo del 2,9% e del 6,9% nel 2023, ma bollette più care del 6%. Turismo Report SRM, cresce la competitività del mezzogiorno che oggi raccoglie il 24% del PIL turistico nazionale, Campania, Puglia e Sicilia, leader a livello europeo. Buonasera, apriamo il nostro telegiornale con il vertice Nato che da oggi e fino a giovedì vedrà riuniti a Washington in occasione del 75esimo anniversario dell'Alleanza i leader degli stati che la compongono. Un summit che vede tra i principali temi sul tavolo i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, i nuovi equilibri imposti dalle elezioni europee e che inevitabilmente sarà condizionato dall'incognita delle presidenziali statunitensi. Ma il vertice sarà anche teatro del passaggio di testimone tra l'attuale segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e Mark Rutte che assumerà ufficialmente l'incarico ad ottobre. Il presidente del Consiglio Giorgio Meloni, giunta ieri sera negli Stati Uniti, ha dichiarato «Mi aspetto unità e grande attenzione al sostegno a Kiev». E il sostegno all'Ucraina appare quanto mai necessario all'indomani del terribile attacco russo su Kiev e Kviriri è salito a oltre 40 morti e 200 feriti, il bilancio delle vittime, mentre ancora si scava tra le macerie dell'ospedale pediatrico della capitale in cerca dei dispersi. E mentre giunge dall'Occidente la condanna per quello che è stato definito un crimine di guerra, su richiesta del presidente ucraino Zelensky si è riunito oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Torniamo in Italia. La crescita del 2024 può arrivare allo 0,9% e l'obiettivo dell'1% fissato nel DEF è ampiamente alla nostra portata. Ad affermarlo oggi in occasione dell'Assemblea dell'ABI il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo cui inoltre per ridurre il debito non è necessaria una manovra lacrime e sangue, bensì una seria politica di controllo della spesa pubblica e di miglioramento dell'efficienza del prelievo fiscale. Ascoltiamo un estratto dal suo intervento. In una fase assai sensibile come quella odierna è auspicabile che la dinamica di riduzione dei tassi di interesse registri presto un'accelerazione. Graduale sì, ma decisa. Un ulteriore estringimento della domanda infatti potrebbe risultare insostenibile, e comunque difficilmente sopportabile per economie come quella italiana che al contrario hanno bisogno di respirare. Il piano strutturale di bilancio che approveremo entro l'estate punterà all'osservanza delle nuove regole fiscali concordate a livello europeo e a conseguire su un orizzonte quinquennale un livello del saldo primario strutturale coerente con una significativa riduzione del rapporto debito PIL negli anni seguenti. La nostra missione è portare il bilancio in pareggio al netto del servizio del debito progresso. Piuttosto positive anche le previsioni del governatore di Banca Italia Fabio Panetta che ha confermato come il PIL italiano sia atteso crescere dello 0,3% anche nel secondo trimestre dell'anno. Prosegue l'espansione dei servizi, soprattutto quelli legati al turismo, mentre continua la debolezza della manifattura. Ha evidenziato Panetta l'irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche ci consentono di guardare avanti con fiducia, ma non devono indurre a un eccessivo ottimismo. Intanto, secondo i nuovi dati diffusi oggi proprio da Banca Italia, a maggio prosegue il calo dei prestiti al settore privato. Nei dettaglio i prestiti alle famiglie si sono ridotti dell'1,1% annuo, mentre quelli alle società non finanziarie hanno segnato una flessione del 3,1%, ovvero una diminuzione comunque più contenuta rispetto almeno 3,4% del mese precedente. Scendono anche i tassi di interesse sui prestiti erogati per l'acquisto di abitazioni, che a maggio si sono collocati al 4,04% dal 4,09% di aprile. Tendenza inversa invece per i tassi sui nuovi prestiti alle imprese saliti al 5,38%. Ancora dati macroeconomici, questa volta diffusi dall'Ocse. A maggio l'inflazione annua nei paesi dell'organizzazione è aumentata di due decimali al 5,9%, 18 su 38. Gli stati che hanno registrato un incremento con l'Italia, che si è invece distinta con un'inflazione ferma allo 0,8%, uno dei livelli più bassi in assoluto e il migliore tra i paesi del G7. Meno positiva invece le stime dell'Ocse sul mercato del lavoro italiano. Il nostro paese infatti ha registrato il maggior calo dei salari rispetto al periodo pre-Covid, con una flessione pari al 6,9%. E continuiamo a parlare di lavoro con Alice, protagonista dell'evento dal titolo Connessioni Intelligenti, promosso da Indeed, che si è tenuto ieri a Roma. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, a rappresentare la nostra associazione responsabile relazioni esterne e sviluppo, nonché coordinatore di Alice Academy, Nicolo Berghins. Il dibattito si è concentrato in particolare sul forte mismatch, e che persiste tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, sull'avvento dell'intelligenza artificiale, ma anche sull'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Buone notizie in termini di crescita occupazionale arrivano da Automar, che ha annunciato l'assunzione di 10 nuovi operatori portuali provenienti dalla ex port agency di Gioia Tauro, un'iniziativa che rientra nell'impegno continuo dell'azienda a supporto dell'occupazione locale e nel potenziamento dei propri servizi logistici. La sede di Gioia Tauro ha visto quasi raddoppiato il proprio personale, dalle 45 risorse del 2023 alle oltre 90 di quest'anno. Soddisfazione espressa dal presidente di Automar, Costantino Baldisara, che ha dichiarato continueremo a investire nel nostro personale e nelle infrastrutture per garantire servizi di alta qualità ai nostri clienti. E proprio il porto di Gioia Tauro continua a registrare ottime performance. La conferma arriva dal presidente della DSP, Andrea Agostinelli, che ha annunciato che nel 2024 lo scalo calabrese movimenterà nel complesso 300.000 auto e mentre procede velocemente l'istruttoria per i nuovi ormeggi sulla banchina nord in concessione ad Automar, è stato inoltre compiuto un significativo passo avanti verso la diversificazione dei servizi portuali. È stata infatti inaugurata la nuova banchina di Ponente destinata alla riparazione e alla manutenzione navale. Ed era partito dal porto di Gioia Tauro lo scanner mobile X-Ray, strumento utilizzato per agevolare il transito degli aiuti di emergenza verso i territori interessati dalla crisi medio orientale nell'ambito del progetto Food for Gaza. Lo scanner è giunto oggi a destinazione a Cipro, trasportato a titolo gratuito a bordo di una nave del gruppo Grimaldi con l'importante obiettivo di alleviare le sofferenze della popolazione civile nella striscia e di garantire pace e stabilità in tutto il bacino del Mediterraneo. Cambiamo argomento, il turismo italiano nonostante le grandi crisi geopolitiche mostra di essere un settore quanto mai solido. Secondo quanto emerge dalle proiezioni di SRM cresce soprattutto la competitività del mezzogiorno che produce ben il 24% del PIL turistico nazionale e che vede ben posizionate a livello europeo in particolare Campania, Puglia e Sicilia. Tuttavia infrastrutture e accessibilità del territorio rappresentano delle innegabili criticità. A tal proposito intesa San Paolo ha stanziato 3 miliardi destinati alle aziende del mezzogiorno per accelerare i processi di transizione e agevolare un'ospitalità più efficiente. Parliamo ora invece di energia. Nel 2023 i mercati del gas naturale europei hanno mostrato segnali di riequilibrio dei prezzi dopo la crisi degli ultimi anni. In questo contesto, come rilevato da Rera, l'Italia presenta le quotazioni più alte di tutto il vecchio continente attorno ai 43 euro per megawattora. Quanto invece all'elettricità, lo scorso anno in Italia sono calati sia consumi che produzione rispettivamente del 2,9 e del 6,9%. Quasi la metà della generazione deriva ancora dal gas mentre le rinnovabili salgono al 44%. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata.